carne selezionata salumi di altissima qualità aromi naturali formaggi nuovo punto vendita fratelli villani carni e salumi in via gargiullo a rocca piemonte un nuovo punto vendita che va ad affiancarsi a quello di via taverne a nocera superiore e a quello di via risorgimento con da cucciani sempre a nocera superiore si producono e si commercializzano prodotti sia all'ingrosso che al dettaglio fratelli villani carni e salumi a tavola tradizione e genuinità a prezzi convenienti